Il fatto di giocare tanto per me è sempre positivo, sicuramente i ragazzi preferiscono giocare e sapere che ogni tre giorni si gioca tiene alto l'umore e tiene alta la concentrazione. Settimana non facile perché il periodo purtroppo ci ha dato tanti ammalati e siamo stati anche sfortunati perché non tutti insieme cioè recuperiamo uno, ne perdiamo un altro con febbre e malanne di stagione però niente di grave, siamo pronti. Avete giocato anche un amichevole contro il Carpi la settimana scorsa a Rimini, un po' per testare il video replay e questo è servito naturalmente alla federazione del settore arbitrale e voi avete invece testato, se non ho visto male, anche un sistema difensivo più aggressivo insomma su che cosa state lavorando in questo periodo? Sì, come dicevi tu un amichevole che non ci fa tanto da testo, non è una prova del 9 perché è stata più per aiutare il settore arbitrale siamo andati volentieri a fare queste amichevole contro Carpi perché per noi ogni partita è sempre buona, è un'esperienza in più però non possiamo prendere tante informazioni da questa partita che è stata molto spezzettata ma come hai visto bene stiamo provando una difesa nuova, il nostro obiettivo è avere almeno due difese per insegnare i ragazzi a difendere in 6-0 e lo stanno facendo già abbastanza bene, abbiamo i nostri principi ben saldi nella testa e adesso stiamo cercando di insegnare loro una 5-1 molto aggressiva che abbiamo visto fare da alcune squadre all'europeo e stiamo cercando di riproporla nel campus A Sassari non era stata una bella partita, ho parlato tra i ragazzi con Marco Zarono, mi ha detto speriamo di invertire la rotta, di offrire una prestazione sicuramente diversa Sì, guarda, noi non abbiamo obiettivi di campionato, nel senso che vincere o perdere a noi cambia poco ci diamo dei micro obiettivi in settimana e uno di questi obiettivi è appunto cercare di fare bella figura con Sassari perché nel giorno di andata insieme a Conversano e Fasano sono state forse le nostre tre peggiori partite dove il divario è stato veramente ampio, sono tre squadre costruite per vincere, nettamente più forti di noi ma credo che se giochiamo meglio, con la testa, più concentrati possiamo diminuire questo vantaggio e il nostro obiettivo di questa settimana deve essere questo non sarà facile, assolutamente, perché Sassari, ripeto, è una corazzata però il nostro piccolo obiettivo per questo weekend deve essere proprio questo di accorciare il gap rispetto al giorno di andata Sette mesi in Serie A Gold, tirando una linea? Non posso che essere contento, siamo contenti dall'inizio i ragazzi veramente, chi li vede lavorare giorno dopo giorno, li vede crescere quando riguardo i video di inizio anno, le foto, anche solo le foto, si vede il miglioramento che sono cresciuti, sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista umano riguardando le partite del giorno di andata poi si vede proprio come crescono veramente i ragazzi hanno, adesso sanno cosa fare sempre meglio, anche rispetto all'anno scorso non ci ricordiamo che l'anno scorso, non ci scordiamo che l'anno scorso in A2 facevamo molta fatica in alcune partite avevamo molti alti e bassi, quest'anno abbiamo reso il nostro percorso un po' più costante chiaramente stiamo giocando in A1, riusciamo, credo, quantomeno a tenere la categoria penso che possiamo essere soddisfatti dobbiamo ancora fare grossi passi da giganti ma stiamo lavorando ogni giorno per questo